Bene, grazie per queste testimonianze e queste partecipazioni. Ora direi che possiamo entrare nel vivo del convegno, però prima di condividere con voi l'agenda dei lavori, volevo un po' tastare il polso sul vostro sentimento, su quello che è il vostro stato d'animo adesso che siamo all'inizio alla preparazione della nuova campagna maedicola. Per cui facciamo un sondaggio in diretta. Collegatevi con il vostro smartphone, oppure per chi è da casa con i propri laptop e accedete al sito www.menti.com Quindi fuori gli smartphone, così vediamo subito la vostra attitudine digitale com'è. No, no, presidente, guardi che ci sono anche persone senza capelli come me o con i capelli bianchi che navigano bene, dai. Quindi collegatevi al sito www.menti.com Inserite il codice 24368829 e vi comparirà questa domanda che è alle mie spalle o che era alle mie spalle. Qual è il vostro sentimento, qual è il vostro feeling alla diciamo all'inizio di questa campagna maedicola e rappresentate il vostro sentimento con una parola, con un'espressione, il vostro stato d'animo. Le vostre espressioni compariranno sul schermo alle mie spalle, si comporrà una nuvola che ci farà capire qual è il vostro stato d'animo in questo momento di preparazione alla nuova campagna. ecco qua, ecco che si comincia a comporre la nuvola speranza, preoccupazione, sono le parole che per il momento colgono il maggior numero di citazioni, preoccupazione diventa via via più grande ma speranza è lì che la tallona da vicino siccitoso, certo, fiducioso, incertezza, preoccupazione preoccupato, timore e direi che il sentimento è quello che potevamo un po' aspettarci perché siamo reduci da una campagna molto difficile se facciamo un po' l'analisi della campagna 2022 il mais è fra le culture che purtroppo ne è uscito peggio questo evidentemente compare in modo molto forte mi piace però anche molto la parola speranza perché è evidente che sappiamo che possiamo fare sicuramente di meglio che ci sono delle opportunità da cogliere e credo che questo stia venendo fuori è anche fiducioso direi che forse ci siamo abbiamo 50 contributi direi che potremmo fermarci qui ma allora il sentimento prevalente è chiaro il sentimento è quello comunque di una preoccupazione di un'incertezza ma sono abbastanza certo che nei tre interventi che seguiranno vi forniremo tutti quanti gli elementi per trovare le risposte ai vostri dubbi alle vostre incertezze ma anche alla voglia di cogliere delle opportunità in uno scenario complesso questa è l'agenda dei lavori il primo intervento sarà del dottor dell'ingegner Cesare Soldi che è presidente dell'Associazione Nazionale Maescoltori che setterà il contesto in cui ci troviamo ed anticiperà alcuni elementi su cui focalizzare la nostra attenzione seguirà la dottoressa Ersilia Di Tudio di Nomisma grazie Ersilia per essere venuta che ci darà approfondita informazione sullo status economico della cultura ma soprattutto ci guiderà lungo gli impatti economici che la nuova PAC comporta Amedeo Reneri non ha bisogno di presentazioni il professor Reneri è un luminare ben noto nel nostro settore ecco Amedeo ci indicherà le strategie economiche e agronomiche che sono necessarie per cogliere tutte le opportunità derivanti dalla nuova PAC e infine Dario Manuello di Singenta si focalizzerà sulla innovazione sugli strumenti innovativi che Singenta può mettere a disposizione dei produttori per cogliere appieno le opportunità che avanzano in questo scenario così complesso è il momento dei relatori Cesare a te il palco e così ci avviciniamo alla nuova campagna la campagna 2023 allora se comincia la presentazione comincio anch'io a parlare una campagna 2023 che sarà caratterizzata da che cosa? da un'incertezza geopolitica perché sappiamo che tra tre giorni è un anno che c'è la guerra dalla certezza che praticamente noi abbiamo una dimezzamento degli aiuti diretti PAC e dalla preoccupazione che abbiamo sull'andamento climatico e sull'approvvigionamento idrico questo che cosa porta? porta ad avere di sicuro il fatto che i mercati così come i costi nel prossimo scenario rimarranno sostenuti ma come abbiamo visto nell'ultime settimane anche calanti e c'è l'incognita delle rese che è legata appunto al cambiamento climatico che soluzioni abbiamo? le conosciamo tutti dovremmo cercare di puntare a quella che è la produttività a quella che è l'efficienza a quello che è la qualità perché ricordiamo che senza qualità intesa soprattutto come sanità e mi riferisco alla flatossine non c'è redditività e a cercare di recuperare le premialità perché quelle che ci sono state tolte dai pagamenti diretti in qualche modo devono rientrare su cosa dobbiamo quindi focalizzarci credo che non abbiamo molte alternative l'innovazione è l'innovazione che è già disponibile ovviamente non possiamo pensare alle NBT perché non sono ancora disponibili possiamo pensare a delle soluzioni oggi che sono tangibili e di questo parleremo oggi e i contratti di filiera ricordiamoci la possibilità di aderire a contratti di filiera triennali e questi danno la possibilità di recuperare teoricamente i sui 100 euro all'ettaro nel 2020 sono stati 75 euro all'ettaro e comunque sono soldi che possono andare a compensare quelle che sono state le perdite dei pagamenti diretti oggi però ci focalizziamo su quella che è l'innovazione e l'innovazione è già disponibile io la vedo su tre punti il primo punto è quello relativo alla scelta degli ibridi in particolare che abbiamo visto come i cataloghi si stanno spostando sempre di più su degli ibridi che sono precoci nel tempo è aumentata la loro produttività e sappiamo che sono molto diciamo anche efficienti nell'utilizzo di quelle che sono le risorse secondo aspetto la difesa e quindi quella tutela della qualità di cui parlavo in precedenza quindi dal punto di vista del biocontrollo della fratossine è vero non è un'innovazione perché è circa sei anni che c'è però ricordiamoci che in Italia è solamente utilizzata per 15.000 ettari sui 900.000 che oggi in Italia coltiviamo quindi mi preme sottolineare l'utilità di questo biocontrollo della fratossine in particolare quindi l'utilizzo di aspergillus flavus di ceppi che sono autossigeni e che sono molto competitivi nei confronti dei ceppi che normalmente troviamo nel campo e questo è in grado di ridurre in annate anche molto pesanti come lo scorso anno dove è stata messa buona parte della commercializzazione del raccolto a rischio i valori della contaminazione della fratossine vengono molto contenuti attraverso questo sistema e poi abbiamo l'efficiente nutrizione è un'efficiente nutrizione che è necessaria soprattutto perché considerati quelli che sono gli andamenti dei costi delle materie prime nella fattispecie dei fertilizzanti che oggi è vero rispetto sto parlando di un listino che fa riferimento al 16 di febbraio rispetto al 15 di febbraio dello scorso anno è in callo del 35% sull'Urea 46% granulare che tutti conosciamo però rispetto al 2021 è ancora un più 40% quindi è ancora piuttosto sostenuta a tutto questo si va a sommare quella che è l'agricoltura di precisione che dobbiamo cercare di utilizzare soprattutto oggi l'agricoltura di precisione come si stengono un po' i professori in generale ha senso quando i prezzi sono alti perché richiede ovviamente degli investimenti richiede ovviamente anche delle azioni da parte dell'agricoltore che esulano un po' dalla nostra quotidianità però è anche vero che nel momento in cui in situazioni come queste i costi sono alti i costi degli input sono ancora piuttosto sostenuti l'agricoltura di precisione può trovare una sua collocazione soprattutto sto pensando ai sistemi di irrigazione ne parleranno poi successivamente io credo che dovremmo cercare anche di abituarci a quei sistemi di motorizzaggio satellitare che permettono di vedere qual è lo stato di vigore della pianta intervenire quando il fabbisogno è necessario intervenire con delle sonde di umidità fino ad arrivare a rate o variabile ovviamente in base a quella che è la disponibilità aziendale anche in termini finanziari che non è da poco ritornando all'efficiente nutrizione mi preme sottolineare il fatto che il mais è la cultura che oggi è la più efficienza in termini di utilizzo di concimazione azotate perché è quella che produce più sostanza secca per chilogrammo di azoto e naturalmente l'apporto che avviene di questi nutrienti deve venire però nella maniera opportuna e quando si parla di efficiente nutrizione si parla di tre aspetti l'efficienza dell'unità fertilizzanti e quindi ovviamente già sono disponibili da alcuni anni però ricordiamoci concime a lenta cessione piuttosto che quegli stabilizzatori dell'azoto per gli effluenti organici rifluizzo tecnici piuttosto che il digestati e poi abbiamo tutta la parte di tecniche di fertilizzazione di nuovo l'agricoltura di precisione quindi la localizzazione banalmente attraverso la macchina seminatrice fino ad arrivare a rate variabile non trascuriamoli questi aspetti che possono sembrare banali ma permettono di avere minore risorse minori costi e minore anche impatto ambientale e per ultimo le nuove tecnologie questo forse è il cuore dell'incontro io avevo partecipato perché mi avevano concesso di poter partecipare a un interessantissimo appuntamento a riguardo era un'informazione tra tecnici e ho trovato che questo fosse veramente il tema fondamentale nuovo e se vogliamo anche rivoluzionario tra tutti i biostimolanti io credo che di nuovo ci sia la possibilità di utilizzare questi batteri azotofissatori non è solamente il singente che lo propone ma lo propongono anche i concorrenti quindi ne possiamo parlare liberamente però questi sono in grado di fissare l'aria dall'atmosfera e di cederlo alla pianta in maniera costante appunto lungo lo sviluppo vegetativo della stessa sono due credo i vantaggi che possiamo avere le soluzioni hanno ancora questo tipo di soluzioni sono vantaggiose tanto di più oggi che lo scenario dei prezzi dei concimi sia azotati che dei concimi complessi è elevato e due sono soluzioni che sono vincenti anche in futuro nell'ottica del raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi della Farm to Fork che prevede una riduzione del 20% dell'utilizzo dei fertilizzanti e questo visto che si riducono quelle che è la concimazione tradizionale credo che dia la possibilità di andare a coprire buona parte un 13% rispetto al 20% che prima dicevo quindi credo che vi auguro un buon convegno e una buona attenzione su queste tecnologie che possono essere valutate grazie grazie Cesare sintesi molto efficace emerge in modo molto forte come l'innovazione e il concetto che può fare la differenza quando pensiamo agli obiettivi che i legislatori vogliono portare avanti entro la fine del decennio Farm to Fork Green Deal meno 60% della diminuzione degli agrofarmaci meno 20% dei concimi abbiamo tutti quanti pensato che fossero obiettivi irrealizzabili in realtà li possiamo raggiungere proprio con l'innovazione quello che vedremo oggi è come lo stimolo che viene dato ad aziende come la nostra produce degli strumenti che ci possono aiutare proprio nel raggiungimento di questi obiettivi che ci sembrano molto difficili la strada è obbligata quindi non dobbiamo fare altro che abbracciare questo concetto di innovazione grazie Cesare chiederei adesso ad Ersilia Di Tullio di inquadrare il contesto economico presente e prospettico della cultura Ersilia a te l'audience grazie mille buon pomeriggio grazie per l'invito la presentazione che io vi farò sarà una presentazione che come dire sale un po' più in alto rispetto all'operatività quello che voglio portarvi sono delle indicazioni di contesto che devono che vi aiuteranno a capire perché il mais è strategico e quindi la prima grande messaggio è dire il mais è importante in Italia e in Europa bisogna continuare a coltivarlo bisogna coltivarne anche di più sempre tenendo presento due grandi ovviamente elementi che sono quelli della sostenibilità economica per il produttore agricolo che ovviamente deve trarre un adeguato reddito da questa cultura è la sostenibilità ambientale che oggi è una condizia sine qua nonno non si può produrre se non seguendo determinate regole non si può accedere a determinati aiuti se non nell'assolco della sostenibilità ambientale e in questo caso l'innovazione è proprio l'elemento che aiuta è la quadratura del cerchio quindi questi tre grandi messaggi sono quelli che vorrei proporvi andiamo a vedere insieme un po' un po' di numeri allora partiamo da un presupposto l'Unione Europea è il più grande esportatore mondiale di prodotti agroalimentari quindi siamo autosufficienti praticamente in gran parte delle produzioni agricole con la sola eccezione del mais e dei semi oleosi oggi a noi interessa il mais ci siamo concentrati sul mais quindi in passato eravamo autosufficienti come Unione Europea anche nella produzione di questo cereale nel corso del tempo vedete questo grado di autosufficienza cioè che quanto produciamo rispetto a quanto consumiamo si è via via abbassato si è abbassato notevolmente ovviamente nel corso dell'ultima annata perché sappiamo che trasversalmente l'intera Europa è stata colpita dalla siccità scusate il male di stagione quindi questo cosa significa? Significa che oggi l'Unione Europea ha meno ha meno ha meno mais a disposizione e possiamo vedere ancora in questo grafico che cosa è successo nel corso di questi ultimi dieci anni i consumi di mais sono costantemente cresciuti e sono attesi di fatto confermarsi anche per i prossimi anni mentre invece la produzione si è via via ridotta e questo ha richiesto che l'Unione Europea importasse da altri paesi il mais quindi ci troviamo deficitari e in prospettiva anche per i prossimi dieci anni l'Unione Europea prevede che ancora il mais prodotto in Europa non sia sufficiente a soddisfare il fabbisogno interno e vediamo a quello che è successo quest'anno quest'anno la produzione mondiale si aggira intorno a 1,1 miliardi di tonnellate il 16% circa di questa produzione destinata all'export è una produzione che è calata del 5% rispetto all'anno precedente i grandi produttori mondiali sono quelli che vedete raffigurati in questa torta di fatto gli Stati Uniti il Sud America l'Argentina e il Brasile ma l'Europa ha un contributo più limitato limitato è anche il contributo della Russia e dell'Ucraina che sono i paesi coinvolti nel conflitto però sappiamo che l'Ucraina pur essendo molto piccola come produttrice è un paese strategico perché esporta gran parte della propria produzione e la esporta proprio in Europa quindi avere problemi in Ucraina è un problema per l'Europa che ha bisogno del mais ucraino che cosa è successo in Europa dai 73 come dire milioni di tonnellate di produzione dello scorso anno si è arrivati quest'anno a 52 c'è stato un piccolo calo della superficie il 3% l'elemento importante in questo calo è stato invece il calo della produttività della resa del mais che è stato dovuto di fatto a due effetti concomitanti sicuramente la siccità dall'altro anche forse come dire il fatto che ci trovassimo di fronte a un costo degli input molto elevato in particolar modo dei fertilizzanti ha in una qualche maniera anche come dire alterato le performance produttive del cereale questo è successo di fatto in tutti i grandi produttori di mais europeo i primi tre paesi che fanno il 50% i primi dieci paesi fanno il 90% quindi capite che si tratta di una produzione concentrata in tutti questi paesi c'è stato un calo importante delle rese importante per esempio in Ungheria che è uno dei nostri principali fornitori all'interno dell'Unione Europea importante anche in Italia si è arrivati almeno o almeno 19% quindi un anno critico un anno critico perché perché se noi ci concentriamo adesso su quello che è successo in Italia potete vedere che di fatto in tutti i momenti importanti del ciclo di sviluppo del mais quindi sia al momento della semina che durante la crescita un po' meno durante la raccolta ma a quel punto diciamo il ciclo biologico del cereale si è concluso c'è stata una fortissima siccità quindi condizioni siccitose gravi o comunque significative in gran parte della produzione hanno portato al risultato certificato diciamo dall'Istat che ci dice che oggi su circa 550-560 mila ettari di mais coltivato in Italia la produzione si è fermata a 4,7 milioni di tonnellate una produzione di meno il 23% rispetto all'anno scorso che si è di fatto questo calo produttivo si è di fatto trasferito in tutte le regioni forse è stato più critico nel caso del Veneto l'Emilia Romagna il Friuli Venezia Giulia venivano già da un'annata quella scorsa non particolarmente entusiasmante quindi un calo più limitato ma comunque significativo cosa ci dice il futuro ci sono degli studiosi che hanno cercato di capire come sarà il clima e come questo si possa come dire incrociare con la produttività del mais nei prossimi anni e ci dicono che di fatto il cambiamento climatico avrà un effetto anche nei prossimi anni quelle aree che vedete indicate in arancione sono quelle in cui si prevede un calo della resa quindi il tema della siccità o comunque di un'adeguata gestione delle risorse udriche è un tema è una sfida se vogliamo riprendere il titolo del mio intervento che bisognerà tenere presente per i prossimi per i prossimi anni resterà anche per i prossimi anni ma non è solo per effetto della siccità che il mais in questi anni ha perso superficie quello che è successo è che la produzione che è stata effettivamente limitata nel corso del duemila e due duemila e ventidue scusatemi si è di fatto via via ridotta proprio per il calo delle superfici che è stato veramente rilevante se noi guardiamo come erano come eravamo dieci anni fa e come siamo oggi vediamo che di fatto abbiamo perso la superficie circa 400 mila ettari che era coltivata in Piemonte in Lombardia dieci anni fa quindi la produzione oggi di mais è veramente limitata rispetto alle potenzialità che la cultura aveva alcuni anni fa e quindi questo riguarda trasversalmente ancora tutte le grandi regioni produttrici che sono di fatto le regioni dell'area padana che hanno perso tutte importanti superfici quasi prossime alla metà al 50% se escludiamo il Piemonte la Lombardia quindi questo vuol dire che oggi siamo a un livello produttivo molto basso ma se ieri si riuscivano a fare quasi un milione di come dire di tonnellate scusatemi di ettari questo significa che ancora oggi si può tornare a quei livelli produttivi ovviamente se c'è meno produzione l'auto approvvigionamento cala cioè la quantità e la capacità di saturare il consumo interno con la produzione nazionale cala naturalmente ovviamente quest'anno scende addirittura al 40% perché come abbiamo visto abbiamo registrato un calo produttivo molto significativo parallelamente che cosa succede crescono le importazioni è chiaro che il mondo zootecnico il feed oggi anche il food che acquisisce un pochino più di importanza nel mais rispetto al passato hanno comunque bisogno di questo cereale e quindi se non viene prodotto in Italia noi dobbiamo ricorrere alle importazioni che sono cresciute vertiginosamente l'anno scorso abbiamo importato mais per 1,2 miliardi di euro quest'anno probabilmente arriveremo a circa 2,2 per effetto anche della crescita del prezzo del cereale sui mercati nazionali e internazionali quindi è una come dire un aggravio della bilancia commerciale agricola italiana ovviamente in negativo cosa succede che chiaramente se non c'è il mais italiano bisogna andare a prenderlo da qualche parte e questa slide che forse è un po' complicata da leggere ma che adesso vi spiegherò rapidamente ci dice che l'Italia per poter saturare questa richiesta è andata a cercare un nuovo equilibrio guardiamo la parte destra della torta quella colorata di giallo e di verde di fatto sono i tre grandi fornitori di mais dell'Italia sono l'Ungheria che avendo anche esso avuto un forte calo produttivo ha perso quote di import per l'Italia l'Ucraina che è cresciuta sappiamo anche che l'Ucraina quest'anno gode anche di condizioni di favore proprio in virtù del conflitto di cui è vittima e l'altro elemento importante che è cresciuto è il Brasile cioè il Brasile che era un po' scomparso gli anni scorsi come fonte principale di approvvigeramento di mais è tornato e voi sapete che la tecnica di coltivazione di mais in Brasile è assolutamente diversa da quella da quella italiana quindi cambiano questi equilibri ci si rivolge a nuovi paesi tutti questi paesi stanno di fatto crescendo quest'anno nel loro import nei primi dieci mesi abbiamo già importato ad eccezione dell'Ungheria le quantità più elevate rispetto a quelle che abbiamo importato gli anni l'anno scorso quindi questo ci dice che l'Italia ha comunque bisogno di mais c'è bisogno di mais bisogna produrre mais il nostro comparto zootecnico lo richiede le nostre produzioni tipiche lo richiedono è strategico continuare a produrre mais è conveniente produrre mais sicuramente quest'anno più di altri anni possiamo vedere come sono andati i prezzi a livello internazionale sono espressi in dollari per tonnellate e invece i prezzi sul mercato nazionale questi espressi invece in euro per tonnellata potete vedere che certo come dire c'è stato un momento di grandissima crescita dei prezzi del duemila e ventidue c'è stata la crisi dell'importo di cereali e questo ha sicuramente influito ma di fatto i prezzi avevano già cominciato a crescere prima nel duemila e ventidue e ventuno e un po' prima sui mercati internazionali dopo è arrivato anche l'incremento in Italia oggi a gennaio per i prezzi che sono stati registrati a gennaio di fatto ci troviamo ancora in una situazione in cui ci dice che il prezzo è circa del dieci per cento sia sui mercati internazionali sia sui mercati nazionali superiore a quello di gennaio del duemila e ventidue quindi ci troviamo ancora in una condizione di vantaggio di remunerazione legata alla produzione di mais certo ci sono anche c'è il problema dei costi lo abbiamo è stato accennato prima è sicuramente un tema importante guardiamo prima che cosa succede sul fronte internazionale diciamo che la concorrenza del prodotto estero è stata parzialmente limitata in questo periodo dal fatto che ci fossero dei costi di trasporto molto elevati oggi i costi di trasporto si stanno abbassando quindi questo significa che il mais che arriva dall'estero costerà un po' meno e già si vede di fatto se si guardano le quotazioni ad esempio nella borsa merci di Bologna l'altro elemento è quello che veniva citato prima dall'ingegner soldi il costo invece delle fertilizzanti sui fertilizzanti c'è una grandissima crisi l'Europa sta cercando di intervenire addirittura con degli acquisti collettivi proprio per bloccare questa escalation dei prezzi però di fatto c'è già si è avviato un percorso di riduzione di contrazione del costo dei fertilizzanti che non è ritornata ancora ai periodi diciamo al 2019 però si è come dire sicuramente parzialmente sgonfiata questa fiammata dei prezzi molto importante che c'è stata nel corso del 2022 e anche prima nel 2021 quindi crescono i costi di produzione i costi di produzione sono cresciuti soprattutto per quelle volci che leggendo qualsiasi giornale si sa hanno contribuito a far crescere l'inflazione si tratta dei prodotti energetici ovviamente carburanti e contotersismo vanno di pari passo con ovviamente i costi energetici i fertilizzanti che abbiamo appena visto sono queste le voci che sono di fatto cresciute per le produzioni zootecniche anche i bambini e quindi questo ha portato trasversalmente a una crescita dei costi di produzione che ha riguardato tutte le produzioni agroalimentari quindi di fatto per quanto riguarda il mais si è cresciuti del 21% il costo di produzione di dicembre del 2021 22 è superiore al 21% del costo di produzione del dicembre del 2021 ma come vedete anche gli altri seminativi hanno subito lo stesso incremento e molto di più è chiaramente l'incremento che hanno subito invece le filiere zootecniche che utilizzano anche la parte manginistica quindi c'è una crescita dei costi di produzione si intravede sicuramente un percorso che porta a un parziale ridimensionamento di questi costi non al completo riassorbimento cosa succede? che in un scenario anche così difficile comunque l'Unione Europea prosegue nel suo percorso di sostenibilità ambientale quindi questo è l'altro elemento del mio del mio intervento quello in cui si dice sì produzione però ovviamente oggi ci sono delle regole diverse o almeno comunque si iniziano ad applicare delle regole più più stringenti dal punto di vista della sostenibilità ambientale conoscete tutti il farm to fork sapete che tre sono i grandi obiettivi che possono avere rilevanza per il mais l'obiettivo di superficie del 25% biologico nel caso del mais oggi siamo solo al 3% quindi si tratta complessivamente di una quota abbastanza bassa c'è l'obiettivo di ridurre il consumo di fertilizzanti c'è l'obiettivo di ridurre i prodotti fitosanitari questa è la proposta del nuovo regolamento sull'uso sostenibile che addirittura chiede all'Italia di ridurre del 62% l'uso e il rischio è del 45% l'uso di quelli più pericolosi è ancora una proposta per il momento non sta procedendo quindi comunque bisogna essere molto vigili su questo non è ancora una realtà però ci sono tutti questi elementi che ci dicono una che ci indicano una direzione su cui andare quindi in questo senso quest'anno con la necessità per forza di ridurre i fertilizzanti di fatto ci siamo già incamminati verso uno di questi obiettivi l'attenzione al biocontrollo sta crescendo e quindi già ci indica che possiamo andare verso alcuni di questi obiettivi e chiudo con un breve cenno sulla PAC oggi sapete benissimo che dal primo gennaio 2023 è entrato in vigore la nuova PAC c'è un obbligo di condizionalità rafforzata cioè ci sono regole per la sostenibilità ambientale che sono vincolanti per poter accedere ai premi nel caso del mais sicuramente quello più interessante è il sostegno di base c'è un sostegno redistributivo che va però alle imprese più piccole quelle maidicole sicuramente sono invece più rilevanti c'è un aiuto ai giovani c'è la possibilità di avere risorse tramite un ecoschema quello che manca è un aiuto accoppiato quindi il mais per forza per poter recuperare risorse quelle che perde nel sostegno di base perché il monte di risorse che viene distribuito attraverso il sostegno di base si riduce è riuscire ad attingere all'ecoschema se erano circa 380 euro le risorse che andavano al mais nella precedente programmazione della PAC oggi si arriva nel 2023 a circa 200 per arrivare a 180 con l'applicazione della convergenza nel corso del 2027 quindi aiuti più bassi e calanti per effetto della convergenza l'unico percorso come vi dicevo è quello di riuscire con una gestione virtuosa e sostenibile a completare il proprio pacchetto se si parte dai 380 che abbiamo visto prima per non rimanere fermi ai 202 l'unico elemento è aggiungere questi 110 euro legati all'ecoschema perché arrivare invece al sfruttare tutti gli aiuti è soltanto di una parte molto ridotta di imprese quelle piccole gestite da giovani che appunto godono anche dell'effetto ridistributivo e allora per poter accedere a questo ecoschema due sono gli elementi importanti da poter rispettare innanzitutto c'è il tema della condizionalità che è obbligatoria oggi è anche sociale non è solo ambientale questi aspetti verranno trattati meglio dal professor Renieri che mi segue io ve li accenno soltanto sicuramente due sono gli elementi da tenere più d'occhio sono l'obbligo della rotazione che ho imposto dalla buona pratica buona pratica agronomica 7 che però è derogata quest'anno grazie al conflitto con l'Ucraina o purtroppo per il conflitto con l'Ucraina e quindi in questo caso la monosuccessione è consentita e poi c'è la possibilità di come dire non destinare una quota della superficie il 4% a terreni a riposo e aree non produttive anche se in questo caso il mais che è destinato all'alimentazione zootecnica non all'alimentazione animale che non all'alimentazione umana è escluso quindi queste sono le regole delle buone pratiche agronomiche ma di fatto se noi invece vogliamo accedere all'ecoschema che ci permette appunto di integrare con 110 euro il nostro aiuto per ettaro dobbiamo invece fare una serie di attuare una serie di comportamenti che sono comportamenti più virtuosi quindi non possiamo sicuramente usufruire di queste deroghe e dobbiamo andare a fare delle rotazioni biennali con colture o leguminose in questo caso non è possibile attuare una difesa chimica o colture da rinnovo che comprendono il mais ma anche la soia in cui si può fare soltanto dei trattamenti una difesa che segue i disciplinari di produzione integrata regionali oppure la difesa biologica oltre a altri requisiti che sono quelli di interramento dei residui obbligatorio quindi questi sono gli elementi di scenario che vi ho portato vedere le cose dall'alto a volte aiuta a comprendere meglio le cose più vicine quindi sicuramente c'è bisogno di mais c'è bisogno di mais in Europa c'è ancor più bisogno di mais in Italia ma bisogna ragionare sempre in una doppia ottica di sostenibilità economica e sostenibilità ambientale grazie 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 mille Ersilia scenario ed impatti no no sei stata bravissima davvero grazie complimenti scenario ed impatti veramente molto chiari credo che la dottoressa di Tullio ci abbia rappresentato molto bene la situazione di crisi in cui ci troviamo crisi in cinese si scrive con due ideogrammi una diciamo equivale alla parola rischio e l'altra invece alla parola opportunità abbiamo visto quali sono i rischi connessi alla nuova PAC ma abbiamo visto anche quali sono le opportunità che un'impresa agricola professionale e in questa sala ce ne sono diverse perché conosco un po' il territorio cremonese possono comunque arrivare a prendere adesso chiederei a Medeo invece di guidarci lungo le strategie agronomiche che sono necessarie per cogliere quelle opportunità a Medeo a te grazie Francesco saluto tutti quanti i presenti ringrazio anche gli organizzatori di questa giornata destinata a trattare il nostro mais come una cultura che ha bisogno in qualche misura di qualche soccorso di qualche intervento allora il mio intervento appunto sarà diviso in quattro capitoli che sono quelli che vedete il primo di questo riguarda il cambio di scenario cioè il problema delle crisi complesse che stiamo vivendo l'agricoltura ha vissuto nel dopoguerra tre grandi momenti quello della guerra fredda finita con la cota del muro di Berlino l'epoca della globalizzazione che ha portato a uno sviluppo economico sorprendente a livello mondiale specialmente di alcuni paesi che hanno preso letteralmente il volo in termini economici sociali e poi e poi chi se l'aspettava arriva il covid e arriva la guerra il tutto quindi crea un periodo di crisi complesse quali sono queste crisi che si sovrappongono l'abbiamo detto la pandemia il secondo la crisi delle materie prime che è subentrato dopo la pandemia quando si è visto che c'era una forte ripresa mondiale la crisi geopolitica che conosciamo benissimo a partire da praticamente un anno fa il 24 febbraio del 22 e a cui si aggiunge la crisi climatica che non è che sia nata ieri ma sappiamo che sta picchiando piuttosto duro e ancora una politica agricola comunitaria che non è una crisi naturalmente ma ci pone ulteriori elementi per ragionare del nostro futuro quindi sfida il sistema agricolo molto complesse nuove per come si presentano e neanche transitorie non sono transitorie perché vediamo adesso che se questo è stato l'andamento qui ho utilizzato l'indice dei prezzi cerealicoli mondiale solo per avere un indicatore vedete l'andamento tra il 2018 a 2022 con l'effetto della pandemia che che tiene fermi i prezzi perché è chiaro che significava una crisi mondiale dei trasporti dell'economia in generale poi la ripresa e le materie prime che hanno incominciato a crescere ben prima della crisi geopolitica la crisi geopolitica ha creato un'impennata e adesso con i nuovi assestamenti si ritorna a valori diciamo vicini a quelle dell'inizio proprio della crisi geopolitica ma non è che tutto si esaurisca in poche parole perché la crisi geopolitica ha portato a un cambiamento delle reti logistiche e quindi passiamo da una globalizzazione aperta per cui noi compriamo da chi vogliamo semplifichiamo il discorso a una friend shoring cioè a una globalizzazione tra amici cioè noi compriamo ormai solo a più da alleati da paesi che ci danno una garanzia politica che sono della nostra parte questo non è qualcosa che si ripristina domani eventualmente sperabilmente che una pace alla conclusione della guerra è qualche cosa che durerà per molti anni questo per ricordare quindi che non sono una crisi transitoria qual è il secondo punto e qual è la risposta dell'agricoltura a queste a questa situazione di crisi complesse allora qui vedete in questo schema sostanzialmente le tre fasi che ho appena descritto guerra fredda globalizzazione e crisi complesse qual è l'obiettivo dei sistemi agroalimentari quella è la seconda colonna lo vediamo qua la risorsa strategica chiusa in tempi di guerra fredda sapevamo la PAC come era costruita era proprio un muro che proteggeva l'agricoltura europeo passiamo poi all'agricoltura visto come un sostegno fondamentale la crescita dell'economia mondiale e quindi anche la PAC si è modificata in modo importante poi con queste crisi complesse scopriamo che la risorsa che l'agricoltura è una risorsa strategica torna a essere strategica ma non è più la risorsa strategica chiusa della guerra fredda è una risorsa strategica aperta ai paesi alleati noi stiamo vivendo questa fase la politica europea dell'autosufficienza passa poi a un sistema aperto orientato dal consumatore ora è un sistema aperto orientato però all'eco decapling cosa vuol dire? Vuol dire che ci viene detto dobbiamo aumentare le produzioni svincolandoci dall'impatto ambientale cioè crescere con un ridotto impatto questa separazione tra la crescita economica e appunto gli aspetti ecologici la premialità era la cultura ricordati gli aiuti accoppiati la sostenibilità ambientale diventa la parola chiave durante l'epoca della globalizzazione ora parliamo di efficienza se vuoi essere slegare la crescita economica degli aspetti ecologici devi migliorare l'efficienza credo che anche oggi parleremo anche dopo il collega Dario Emanuele proprio di questo aspetto la strategia economica produzione in settori chiave qualità alimentare e ambientale in filiera questi aspetti non sono completati naturalmente ma sono ancora validi ma ora bisogna parlare di intensificazione sostenibile siamo otto miliardi dobbiamo avere una risorsa strategica ma naturalmente nell'ottica della grande efficienza andiamo avanti e diciamo che cosa possiamo fare noi in questo cambiamento di scenario dalla globalizzazione che ho detto prima alle crisi complesse all'intensificazione sostenibile quindi muoverci da sinistra verso destra risorse genetiche avere risorse che possono valorizzare l'efficienza produttiva la diversificazione culturale ci hanno detto che dobbiamo reintrodurre le leguminose la PAC ci dice proprio questo sostanzialmente però noi ragioniamo col fatto che se vediamo meglio dobbiamo ritornare ai secondi raccolti secondi raccolti che abbiamo un po' perso e che se l'acqua ce lo consente tornano a essere estremamente di attualità risorsa suolo conservazione noi parliamo adesso di lavorazioni più efficienti di cover crops quindi colture di copertura la nutrizione ci hanno detto di ridurre le dosi di modulare noi pensiamo anche soprattutto in prospettiva di riciclo delle risorse di efficienza e di impiego di biostimolanti o prodotti come i batteri promotori della crescita che possono essere essenzialmente importanti la difesa ridurre gli agrofarmaci sì ma in un momento in cui sei nelle crisi complesse è l'efficienza e l'integrazione dei mezzi che deve essere fondamentale e l'introduzione di nuovi agrofarmaci che sono compatibilmente più compatibili dal punto di vista ambientale anche bioagrofarmaci cioè magari fatti da organismi biocompetitori chiudiamo questo correllato velocissimo dicendo l'irrigazione beh è chiaro che dobbiamo aumentare l'efficienza questo è un passaggio chiave forse è il passaggio più importante per l'agricoltura dei prossimi anni che dobbiamo fare in pianura padana i sistemi irrigui efficienzi per valorizzare apporti d'acqua che non sono più probabilmente quelli mediamente che abbiamo avuto nel passato gestione culturale da una gestione aziendale a una gestione sovra aziendale tornerò su questo punto perché è importante l'assistenza tecnica da un approccio sul sistema agricolo a un approccio sul sistema agroalimentare quindi vedere l'agricoltura nella prospettiva anche delle trasformazioni cioè un discorso di filiera sostanzialmente bene quali di questi due colonne sono quelle per cui c'è questa sensibilità di un'europea ora voi dovete immaginare che quando a Bruxelles si arriva a stabilire gli elementi fondanti della nuova PAC hanno discusso migliaia di ore attorno a un tavolo 27 paesi che si scornano per difendere i loro legittimi interessi quando finalmente si arriva nel 2018-19 a definire i paletti della nuova PAC nessuno immaginava che le crisi sarebbero partite quindi la politica che stiamo vivendo adesso è nata vecchia non vogliamo dare colpa naturalmente al nostro mondo europeo di Bruxelles ma riteniamo che questo sia un problema piuttosto grosso quindi passiamo al punto successivo qua all'agricoltura per rispondere al Farm to Fork e poi naturalmente alla PAC che è entrata un mese un mese e mezzo fa in azione allora già Ersilia Di Tullio ha presentato i tre paletti della Farm to Fork quindi la sappiamo già molto bene io vorrei su questa immagine mettere in evidenza non tanto quelle che sono le riduzioni ma quanto sono i probabili effetti attenzione io dico applicare oggi la strategia Farm to Fork quindi cosa succederebbe se l'applicassimo oggi non nel 2030 o entro 2030 attenzione quindi stiamo dando delle percentuali per forza piuttosto severe vediamone assieme allora l'impatto sulla produzione della rinnovazione dei fertilizzanti così come vengono stabilite potrebbe essere sui cereali parlo solo di cereali tra il meno 10 e il meno 15 per cento questo generalmente sulla produzione unitaria sulla produzione globale potrebbe essere leggermente inferiore perché potremmo farci furbi lasciamo detto così con rotazioni che aiutano con le leguminosi di risparmiare un po' di azoto sui prodotti fisiosanitari l'impiego la riduzione dei prodotti a rischio del rischio del 50% che in Italia significa il 62% potrebbe avere un impatto di cereali tra il 10 e il 18% di riduzione il biologico la superficie del 25% sappiamo che dobbiamo fare molta strada la produzione biologica unitaria dei cereali sono del 20 30% inferiori l'impatto sarebbe del 6 8% di riduzione perché la applichiamo al 25% io vi apro una parentesi credo che tutti siamo d'accordo nella sensibilità che abbiamo riguardo a queste prime due situazioni sul biologico io non sono e non ho trovato nessuno che sia d'accordo perché il biologico potrebbe anche andare al 40% o potrebbe fermarsi al 5% sarà il mercato che lo dice ricordatevi che il biologico in questi ultimi anni è cresciuto del 5% nonostante ci sia stata la grande imprendata dei costi quindi ricordiamo che non si può governare un mercato semplicemente con un approccio ideologico e questo lo sappiamo quindi credo che vi ricordo cose che sappiamo molto bene torniamo a noi però probabile effetto sulla produzione di cereali in Italia mettendo insieme questi allevamenti tra il meno 15 e il meno 25% questo se lo applicassimo oggi allora è chiaro che quando vediamo questi dati ci viene il dubbio che la PAC si è stata scritta prima che nascessero e ci ricordassero questi problemi di emergenza e di crisi che stiamo vivendo questi dati calcolati sulla base delle ricerche più più facili da ottenere dei nostri centri di ricerca sono confermati pienamente da quattro scenari studiati da enti internazionali americani l'USDA JRC che è il centro di ricerche modellistiche dell'Unione Europea di Wageningen che è l'università invece olandese una delle più importanti in Europa e dalla stessa commissione che ci dice che questi sono i quattro rapporti A, B, C, D la produzione cereali oleifere scenderebbe dal 12, 15 o tra l'8 e il 14% quindi vedete che siamo grossomodo tutti quanti orientati a capire che questo sarebbe un grosso problema a questo dobbiamo sommare naturalmente un elemento di grande complessità che è adeguarsi alla nuova primo pilastro della PAC perché dobbiamo a questo punto non più per scelta ma adeguarci alla prima condizionalità che è la rotazione culturale che sappiamo che vuol dire cambiare una cultura una volta all'anno ma valgono le culture secondarie ecco questo è una novità relativa perché ormai lo sappiamo che però è piuttosto in attesa quindi valgono anche le culture secondarie fanno rotazione purché rimangono in campo il tempo necessario per raccoglierle quindi non valgono le cover crop questa è un'asservazione che se volete ha un certo senso sono considerate secondarie le culture che completano il ciclo non sono culture secondarie le cover crop l'ho appena detto sono diverse le culture che non appartengono allo stesso genere quindi fare il farro e fare il frumento tenero non va o duro e tenero non vale bisogna però si può fare orzo vi ricordate che la diversificazione culturale diceva che i cereali verni erano tutti uguali qui invece li abbiamo assimilati quindi qui abbiamo degli esempi validi e degli esempi invece da bocciare mais granella su mais granella non si può fare frumento tenero e frumento duro non si possono fare due mais col cover crop non si può fare così due cicli cereali verni col cover crop non si possono fare si può fare soia mais si può fare anche frumento soia frumento soia ad esempio questo si può fare frumento orzo perché sono due generi diversi lo yes a mais lo yes a mais si può fare frumento fagiolo frumento si può fare di nuovo perché abbiamo una cultura portata a fine ciclo diversa e quindi è accettabile bene andiamo avanti dicendo questo ci sono alcuni elementi naturalmente critici di applicazione per cui nel 2024 già stato detto non è necessario applicare però bisogna immaginare che il 2023 si ripercuote poi sui vincoli 2024 in certi casi non è obbligatorio se ci sono queste condizionalità è avanti di questo passo e vorrei però andare a parlare dell'ecoschema 4 l'ecoschema 4 è la novità perché sostituisce il greening sostituisce il greening e vi assicuro che chi Cesare ed io abbiamo seguito la storia dell'ecoschema 4 proponendo ripetutamente delle logiche opponendoci a delle logiche che non riuscivamo a capire quali erano sostanzialmente perché perché l'ecoschema 4 è nato per le foraggere prative sostanzialmente no? permanenti anche o comunque per i prati stabili o avvicendati ma di lungo periodo poi qualcuno ha detto al ministero e noi siamo stati tra quelli che hanno detto ma scusatemi ma voi state regalando dei soldi alla frutticoltura chiedendogli inerbimenti che dovrebbero essere una cosa assolutamente ovvia e invece ai cereali gli state dando una bastonata in testa quindi hanno aggiunto le colture da rinnovo però il nome è rimasto custoro curioso sistemi foragieri estensivi con avvicendamento ma in quegli estensivi è entrato a questo punto anche il mais che estensivo onestamente non è ecco per avere comunque va bene così teniamoci questo nome anche se è un nome che probabilmente non risponde tanto avvicendamento biennale con presenze leguminose foraggere e colture da rinnovo queste colture da rinnovo sono poi un elenco abbastanza ricco dove però troviamo la soia quindi la soia è una leguminosa ma è sostanzialmente considerata come se non lo fosse ma è favorita in questo contesto allora applicazioni tecniche di mezzo di difesa integrata alle colture da rinnovo in elenco divieto di impiego di processi sanitari sulle leguminose ma quali quelle prative dove già noi tendenzialmente storicamente non facciamo interventi quindi lì non è particolarmente importante interramento dei residui culturali attenzione però la paglia e gli stocchi non sono considerati residui culturali quindi li possiamo portare via vedete come rimangono i nomi ma cambia il ragionamento tutto sommato dobbiamo pensare che questo sia un elemento positivo qualche esempio frumento mais è possibile frumento soia frumento soia è di nuovo possibile mais trinciato mais trinciato sì perché mais è una pianta foraggera erbacea quindi non si può dire che non lo sia bisogna che qualcuno ce lo scriva che non si può fare però al momento leggendo letteralmente questo dovrebbe essere possibile soia soia è possibile perché perché il vincolo sembrerebbe non applicarsi a questo però a questo punto attenzione potrebbe prevalere la condizionalità quindi questo qui lo mettiamo tra virgolette da capire e bisogna che alcuno si esprima decisamente su questo triticale maestrinciato mais granella è possibile frumento frumento no frumento orzo no frumento soia e poi frumento no perché la soia non vale per che è una seconda coltura in questo contesto e avanti mais granella mais granella anche questo non dovrebbe essere possibile però attenzione domande fatte al ministero risposte ancora carenti questa cosa qui è ancora gli elementi critici delle colture che vengono considerate da rinnovo vedete che abbiamo tante colture anche alcune che i testi di agronomia non hanno mai detto che sono colture da rinnovo ma non facciamo buono questo elenco che è un elenco ufficiale passiamo all'ultimo punto aggiornare l'approccio agronomico in questo contesto allora io vorrei sottolineare solo questo ragionamento che naturalmente viene preso con le pinze ma è importante allora questo è mediamente i contributi per il mais della PAC vecchia 365 euro a etero e sappiamo che si sono ridotti in questo caso del 25% simulando poi un greening anche di un valore intermedio però cos'è successo è successo che il prezzo del mais è cresciuto dalla fase finale della PAC vecchia all'attuale situazione del 60% del 40% al frumento per esempio ecco che dico il frumento biologico non è cresciuto per niente quindi il biologico è in crisi di prezzi chiusa parentesi e vedete qui l'andamento del prezzo italiano del mais che è questa linea rossa e vedete come è cresciuto come abbiamo visto prima anche dai grafici di Ersiglia di Tuglio quindi che cosa succede in sintesi lo scenario nuovo è i sostegni ridotti e prezzi alti qualcuno dice prezzi alti che ne sappiamo è vero che ne sappiamo le previsioni che abbiamo visto anche che la FAO ci fa ci dice che il prezzo dovrebbe fra un anno quindi dicembre gennaio dicembre 23 gennaio 24 assestarsi tra i 280 e i 300 euro tonnellate perché dico questo perché negli ultimi cinque anni per quattro di questi abbiamo avuto una domanda superiore all'offerta quindi gli stock sono estremamente ridotti stock internazionali chi detiene questi stock il 70% i cinesi quindi abbiamo una condizione di vera autentica carenza di granella nel medio lungo periodo ecco che pensiamo che i prezzi possono rimanere alto detto questo se l'aiuto della PAC si riduce ma il prezzo della quintale è alto vediamo che il reddito lordo al variare delle produzioni queste qui sono le tonnellate di granella e questo il reddito lordo espressi in euro naturalmente a ettaro tende a crescere così durante il regime pre crisi attuale mentre ora quel prezzi alti e la riduzione del contributo PAC cresce in modo maggiore e allontanandosi dalla curva della retta azzurra cioè che cosa vuol dire vuol dire che la reddittività ora più di qualche anno fa cresce l'aumentare delle rese questa è l'informazione fondamentale se volete è un approccio corretto no cioè abbiamo un ritorno che è proporzionale a quanto siamo in grado di investire e produrre perché il contributo della PAC si è ridotto e quindi siamo meno supportati e perché il prezzo della tonnellata è cresciuto in proporzione ecco quindi che l'informazione che nel probabile scenario è quella di investire nei fattori della produzione chiudo quindi con l'ultima slide che è la precedente la seguente quali sono le trasformazioni che questo richiede allora sempre vero che occorre aumentare il valore del prodotto quindi per aumentare il valore del prodotto noi siamo legati alle filiere questo non c'è minimamente dubbio quindi adesione a disciplinare di produzione contratti integrati come ha detto anche Cesare introdurre vincoli qualitativi ambientali ulteriori sarà forse necessario perché le filiere ce lo chiedono certificare il processo perché purtroppo è necessario e aumentare il ruolo nel fare agricoltura degli stoccatori e del trasformatore perché cioè dell'industria perché è collegata a doppia catena rispetto a noi per contenere i costi dobbiamo ragionare che in Italia abbiamo delle realtà agricole tendenzialmente piccole quindi superare l'azienda come una unità autonoma reti di imprese cioè imprese che si uniscono nella gestione nell'acquisto dei mezzi tecnici nella conduzione nei rapporti con il mondo terzo che sta poi a valle potenziamento della cooperazione e ancora estensione del ruolo delle aziende agromeccaniche che devono entrare nella gestione perché sarà sempre più loro il controllo dell'esecuzione delle operazioni apro una parentesi agricoltura di precisione ma quanto costa un'azienda media essere attrezzata per agricoltura di precisione in modo completo ve lo dico io da 80 a 150 mila euro fate voi ogni ragionamento è chiaro che si passa dal conto terzino indurre elementi gestione territoriale avanzata questo è la cosa fondamentale abbiamo la possibilità di avere dei satelliti e delle tecnologie che guidano poi le operazioni culturali quindi alcuni aspetti emergenti che voglio ancora ricordare che un pochettino chiudono e fanno delle considerazioni finali contributi della PAC ridotti più fondi di investimento in questo momento ci sono molti fondi disponibili pensate agricoltura 4.0 è un fondo sicuramente significativo cresce sempre di più l'attenzione per la qualità filiere integrate lo ripetiamo ancora per direi per la terza quarta volta prezzi variabili ma alti maggiore attenzione al ruolo strategico delle colture e quindi anche al significato del mais perché dal mais dipendono le nostre grandi filiere tecnica agronomica genetica avanzata voi sapete che il 4 febbraio abbiamo avuto una sentenza della Corte Giustizia Europea che ha detto che le NBT o TEA non sono OGM non ha detto molto di più però le ha già staccate è un piccolo segnale di una macchina che ci mette molto tempo ad andare a regime introduzioni di biostimolanti o prodotti in grado di essere promotori della crescita delle piante nuovi mezzi di difesa effetto combinato la difesa che non solo elimina il patogeno ma aiuta anche la pianta a rispondere di più qualche cosa quindi che rinforzi in modo sinergico potenziali vantaggi di tecnologia 4.0 l'abbiamo detto ma qui mettiamo due parole chiave importanti che conoscete sicuramente carbon farming carbon farming allora noi saremmo degli illusi se pensassimo che comportamenti virtuosi in senso ambientale fossero ampiamente remunerati dai contributi della politica agricola comunitaria no quelli al massimo ci danno un contentino per quel grosso che si sta facendo il guadagno ci arriva dalla capacità di vendere quello che noi stocchiamo di carbonio da chi da chi ne produce troppo che non è il mondo agricolo ma il mondo industriale dei trasporti ad esempio i quali hanno bisogno di vendere le quote di energetica carbonica che emettono e acquisirla stoccandole a chi invece è in grado di farlo agricoltura c'è stato uno scandalo io segnalo estremamente grande perché il più grande venditore di crediti di carbonio volontari verra americano è venuto fuori che una parte consistente dei crediti che piazzava nelle foreste pluviali Brasile per fare un esempio erano fasulli o meglio erano mal stimati e si sta dicendo non è il caso di investire nell'agricoltura e allora questo potrebbe essere un modo per noi per recuperare reddito e il mais non può che essere al centro di questa discussione perché chi come il mais produce residui da interrare pensiamo al mais granella naturalmente ultimo rotazione con bioenergie vale a dire in grado di fare quella sistema circolare che il territorio riesce a fornire quelle risorse di fertilizzante organico che i limiti della farm to fork ci tende invece a rendere più esasperato quindi chiudo con una parola con un motto veloce investire in innovazione questo è un momento di ragionamento di poterlo fare abbiamo le condizioni per farlo vi ringrazio grazie mille Amedeo io devo dire che resto sempre molto affascinato dalle presentazioni del professore Neri perché ha una capacità incredibile di digerire argomenti assolutamente complessi devo dire che la prima volta che ho provato a leggere il testo della PAC ho detto va bene faccio un'altra cosa per oggi perché è troppo complicato e poi invece veramente potete tradurle in un linguaggio assolutamente comprensibile oltre alla grande lucidità e pragmatismo nell'indicare la direzione quindi veramente grazie per per il tuo contributo gli punti che ci hai dato su innovazione credo che ora possano essere ben approfonditi dal dottor Manuello lui metterà l'accento su due argomenti in particolare innovazione nella nutrizione innovazione digitale così rimaniamo in tema su come cogliere le opportunità che questo nuovo mondo complesso ci mette davanti grazie grazie mille francesco innanzitutto buonasera anche da parte mia io sono Dario Manuello sono responsabile marketing per quanto riguarda le culture arbol che nel caso specifico includono sia il mais che anche il cereale andiamo un po' a chiudere la giornata di oggi è una giornata estremamente importante abbiamo toccato argomenti decisamente importanti che sono il futuro e in questo caso volevo portarvi lato singenta qual è l'innovazione più importante che andiamo a lanciare per quanto riguarda il duemilaventitré ovvero l'azotobacter salinestris andiamo un po' a vedere un po' più nel dettaglio che cosa fa cosa funziona e quali sono effettivamente i vantaggi dell'utilizzo di questa nuova tecnologia dopo entro nel dettaglio partiamo da un aspetto importante l'abbiamo già visto all'inizio e soprattutto nelle diverse presentazioni che l'innovazione è il motore soprattutto per andare a rispondere a quello che sono state catturate in maniera puntuale precisa sia dall'autoressa di Tullio che dal professor Reineri cioè il farm to fork questo implica questo veloce adattamento a quello che sono le nuove richieste dell'Unione Europea e per fare questo chiaramente Singente in questo caso andrà a lavorare su sostanze attive saranno sostanze attive sempre più diciamo amiche dell'ambiente quindi sempre meno impattanti però in questo caso dobbiamo pensare anche a un'agricoltura che si basa su una nuova tipologia di prodotti e sono quelli che vedete qui riportati biosoluzioni in generale e anche qui andremo a declinare un po' più nel dettaglio tra pochissimo e soprattutto i biostimolanti questo nuovo concetto abbinato anche al digital che è stato citato scusate dal nostro responsabile marketing tenderà a generare un'agricoltura una nuova agricoltura un'agricoltura rigenerativa andando avanti in questo caso nella presentazione anche qui i driver che abbiamo sentito prima che vanno un po' a regolare il mercato la prossima stagione sono già stati toccati velocemente abbiamo visto il cambiamento a seguito del farm to fork abbiamo sentito la necessità di avere nuove tecnologie in generale in questo caso parliamo però di prodotti il contenimento dei costi è uno dei pain point che tutti i giorni l'agricoltore deve poter gestire e soprattutto avremo una condizione di prezzi elevati magari non elevati come quello che è stato magari la prima parte del 2022 ma comunque una situazione di prezzi che rimane tendenzialmente elevata andando avanti però nella presentazione anche qui un argomento estremamente importante toccato anche dall'intervento dell'ingegnero soldi le filiere le filiere diventano un aspetto molto importante vale per il mais vale ancora di più per quanto riguarda il cereale bene entriamo un po' della presentazione in questo caso andando a vedere su che cosa poggia l'offerta di Singenta per quanto riguarda sia il mais che il cereale e lo vedete che in questo caso poggia su quattro diversi pilastri per poter chiaramente rispondere al mercato andiamo a vederli un po' più nel dettaglio in questo caso abbiamo gli agrofarmaci le biosoluzioni i protocolli integrati e poi a chiudere i servizi digitali se andiamo ad analizzare un po' più nel dettaglio i prodotti chiaro è che questa slide sarò velocissimo perché potrei stare qua tutta la serata a raccontarvi ognuno di questi ma ci tenevo particolarmente a evidenziare il fatto che comunque Singenta sul mais rimane l'azienda di riferimento guardate solamente quanti erbicidi abbiamo a disposizione tra parentesi ne approfitto Francesco non volermene terbuti l'azienda terbuti l'azienda sembra la scelta come si può dire quasi una bestemmia in chiesa signori la terbuti l'azienda abbandonarla è una assolutamente una scelta scellerata da un punto di vista strategico sull'evoluzione delle infestanti è stata rinnovata tra l'altro la collega che è qui la dottoressa Marchetti è stata lei che ha salvato la terbuti l'azienda insieme al suo gruppo italiano ed europeo si può fare un anno su tre benissimo la gestiamo ci sono altri prodotti li vedete qui riportati eventualmente poi avremo altre occasioni per poter parlare di questo però tornando a bomba sulla presentazione sugli insetticidi anche qui parlavamo di filiere abbiamo parlato in questo caso del contenimento delle aflatossine facciamo una parentesi anche sul controllo degli insetti in questo caso la piralide e quindi diventa particolarmente importante l'utilizzo dell'ambigo un prodotto che bene o male penso che tutti voi l'abbiate utilizzato abbinato in questo caso a un nuovo prodotto che è il volume quindi un prodotto ulteriormente innovativo per poter controllare vi dicevo la piralide la piralide guardate però l'aspetto biostimolanti è la prima volta che si ingenta lancia cinque marchi diverse in questo caso per questa nuova tipologia di prodotto insieme a Lisa Bio che invece è un prodotto biostimolante che ormai è in catalogo da circa tre anni andiamo a vedere un po' più nel nel dettaglio in questo caso che cosa intendiamo per biosoluzioni in modo tale che facciamo un po' di chiarezza su questo mondo che è qualcosa di nuovo ma che diventa particolarmente interessante perché vedete qui riportate le biosoluzioni sono tutti quei prodotti derivati o ispirati dalla natura per poter proteggere o poter rafforzare le piante se andiamo in questo caso a declinarli in biocontroll e biostimolanti per ognuno di queste chiaramente c'è una diversa definizione per quanto riguarda i biocontroll ad esempio sono tutti quei prodotti di origine naturale che servono per controllare ad esempio i funghi gli insetti e in un futuro anche le infestanti per quanto riguarda invece i biostimolanti sono quei prodotti che possono essere utilizzati sulle piante sulle radici o comunque in generale sulle foglie sull'apparato delle piante per poter andare a stimolare i processi naturali che le piante stesse hanno a vantaggio chiaramente della produzione come ultimo aspetto ma sull'utilizzo anche in maniera più efficiente delle sostanze nutritive e questo fondamentalmente è quello che è l'azotobacter quindi entriamo nel vivo della mia presentazione partiamo dalla value proposition che vedete qui riportata l'azotobacter salinestris è un fertilizzante di origine naturale e questo permette alle aziende agricole un aspetto molto importante cioè andare a migliorare l'efficienza della concimazione azotata riducendo i costi da una parte ma traguardando quelle che sono le indicazioni dell'Unione Europea sia per quanto riguarda la quantità ma soprattutto la qualità in questa slide vedete che vi ho riportato tre punti che secondo me sono fondamentali la qualità in quantità abbiamo poi la sostenibilità e la differenziazione da un punto di vista di mercato partiamo dal primo punto l'utilizzo di questi prodotti serve per poter andare a compensare quelle che sono le indicazioni dell'Unione Europea abbiamo visto che sull'azoto l'indicazione sempre a livello europeo è la riduzione del 20% benissimo l'utilizzo di questi prodotti fa sì che manteniamo la produzione quindi la prima cosa che dobbiamo andare a prendere in considerazione mantenendo la qualità magari un parametro un po' meno legato al mais ma estremamente importante per tutti coloro che coltivano grano tenero o frumento duro sostenibilità anche qui la sostenibilità è una parola molto utilizzata anche in ambito agricolo poi abbiamo una sostenibilità che viene declinata lo vedete qui riportato in economica quindi parlavamo di riduzione di prezzo ma poi abbiamo anche un effetto ambientale e sociale da un punto di vista poi di differenziazione sul mercato beh anche qua è un prodotto tecnico e come tutti i prodotti tecnici merita un attimo di discussione infatti andremo a dettagliarlo un po' più nel dettaglio tra pochissimo che è un fertilizzante di origine naturale ve l'ho già detto l'ho già condiviso però ci tenevo a condividere con voi questi aspetti innanzitutto è un prodotto e poi vedremo come viene posizionato sia sul mais ma anche sul cereale visto che comunque anche in questa zona di cereale si è seminato parecchio un prodotto che viene assorbito per via fogliare e via radicale questo non è secondario nel senso che il prodotto che viene distribuito sul terreno viene assorbito dalla pianta attraverso le radici quindi non si perde nulla quindi questo è un aspetto molto importante ancora una volta per sostenere e per poter spingere sull'efficienza della consumazione superiore velocità di colonizzazione non ho fatto una comparazione con il prodotto più utilizzato a livello diciamo di maiscultura ma questo prodotto in 24-48 ore è in grado di colonizzare la pianta e andare a sopperire alle richieste dell'azoto e quindi questo è un aspetto molto importante ancora una volta in un'ottica di efficienza riduzione della quantità di azoto cominciamo a ragionare su questo perché diventa estremamente importante sul cereale in questo caso per me vuol dire frumento stiamo parlando di 30-35 unità in meno mentre sul mais parliamo di 50-60 unità per ettaro in meno lo vedremo poi tra pochissimo nel dettaglio della sostenibilità e l'aumento di questa ne abbiamo già parlato sostegno la produzione un altro aspetto importante è la selettività e la miscibilità perché lo vedremo tra pochissimo anticipo un concetto questo prodotto viene utilizzato in miscela al diserbo quindi andiamo un po' a capire come e quando soprattutto utilizzarlo andando avanti nella presentazione volevo condividere con voi aspetti molto pratici nel senso che se da un punto di vista tecnico il prodotto ha la sua valenza da un punto di vista economico per l'azienda agricola effettivamente è un vantaggio perché questo perché l'azotobacter è il calmirante per andare a gestire la componente costi legata al fertilizzante innanzitutto considerate questo la dose per ettaro 50 grammi sia frumento sia per il mais non cambia assolutamente niente quindi idealmente 50 grammi di questo prodotto più o meno identificano un saccone immaginario so benissimo che non esiste un saccone da un quintale ma questa è la comparazione 50 grammi da una parte circa un quintale dall'altra di concime classico beh questa situazione fa sì che da un punto di vista di costi di logistica cambia un po' la situazione perché comunque muovere i sacconi è una perdita di tempo si investe comunque tanto tempo per poter riempire ad esempio il sarchiatore e quindi sono tutti quelli aspetti che dobbiamo prendere in considerazione perché abbiamo un minore costo legato alla concimazione a livello generale sia per quanto riguarda riduzione della quantità ma anche di tutto quello che è il tempo dedicato a questa operazione sulle produzioni sostenibili ve l'ho già detto quindi possiamo andare via tranquilli quello che però volevo farvi capire è questo cioè sul mais ad esempio quindi abbiamo parlato di questo fertilizzante di origine naturale che cos'è l'abbiamo visto ma soprattutto volevo condividere con voi e farvi capire nel dettaglio che cosa comporta da un punto di vista pratico ora sappiamo che l'azotofissazione dai sacri test dell'agronomia tra l'altro io sono ex studente del bossore in area quindi sono ben contento di poter essere oggi qui presente visto che mi hai chiamato collega chiuso la parentesi ma scherze a parte tornando su video seri l'azotofissazione è appannaggio delle leguminose e sono solo loro in grado di farlo da un punto di vista naturale quindi sapete benissimo che la leguminosa per eccellenza l'abbiamo vista anche nei vari percorsi di rotazione è la soia chi concima la soia per quanto riguarda l'azoto nessuno è fatto apposta per poter migliorare il terreno ma soprattutto avere anche un'ottica di risparmio di fatto questo prodotto quindi l'azotovacchitra salinestris permette alle piante di poter diventare delle leguminose e infatti il batterio che viene assorbito come vi dicevo prima per via fogliare per via radicale in 24-48 ore comincia a produrre azoto e questo porta ai vantaggi che vedete qui riportati nei successivi tre bullet point innanzitutto migliora la struttura del suolo perché questo? perché il batterio colonizzando le radici queste radici aumentano chiaramente la capacità della rizosfera di trattenere acqua da una parte ma migliorare anche l'assorbimento di elementi nutritivi da azoto comunque viene assorbito dalla foglia scusate le radici ma miglioriamo anche l'assorbimento del fosforo e del potassio quindi abbiamo anche un effetto secondario sugli altri chiaramente elementi che vengono utilizzati dalla pianta ultimo e non ultimo questo batterio è in grado anche di lavorare da un punto di vista di biostimolazione in questo caso significa un aumento della produzione di ormoni fondamentali che sono quelli che vedete qui riportati quindi un prodotto che permette di poter avere le riduzioni che vi ho citato prima nel caso del mais l'abbiamo accennato prima solo sottolineo ancora una volta 50-60 unità di azoto questi 50 grammi di prodotto che sono idealmente anche qua un sacco e qualcosina di urea in questo caso e da un punto di vista poi di sostenibilità ancora una volta andiamo a traguardare quelle che sono le indicazioni del farm to fork andiamo in questo caso a vedere innanzitutto da un punto di vista di efficacia un'efficacia che viene comprovata chiaramente dai dati perché oggi mi ho parlato di tanti indicatori economici ero geloso ho detto beh faccio anch'io due conti così almeno vi faccio capire che cosa vuol dire utilizzare questo prodotto mantenendo vi dicevo la produzione allora le prove sono state fatte chiaramente nella scorsa campagna sono 14 prove a livello europeo vedete in questo caso che lo schema sperimentale è estremamente semplice perché comunque non è stata fatta una concimazione di fondo in questo caso chiaro è che immaginatevi prove di singente dislocate su tutto il panorama europeo dovevamo cercare di standardizzarle e mettere dall'altra parte il mais in condizioni un po' sfidanti per poter dare la possibilità all'azotobacter di poter lavorare comunque vi dicevo no concimazione azotata solo concimazione in copertura lo standard è 220 unità di azoto anche qui vale quello che vi ho detto prima è una prova a livello europeo e quindi abbiamo cercato di standardizzare le altre due tesi sono state riduzione di 60 unità di azoto quindi meno 60 unità di azoto per ettaro la stessa riduzione chiaramente è stata compensata con l'aggiunta insieme al diserbo di post emergenza quindi qua cominciamo anche a ragionare su quando è stato utilizzato l'azotobacter e la stessa cosa è stata fatta con il prodotto standard alla dose che vedete qui riportata andiamo a vedere un po' i risultati per poter capire innanzitutto come siamo andati da un punto di vista di performance tecnico tecnica scusate da un punto di vista di produzione chiaramente io qua ve l'ho equiparata a 100 in questo caso però considerate la produzione chiaramente dello standard con i famosi 220 unità di azoto ha prodotto 100 togliamo 60 unità anche qui voi mi dite avete scoperto l'acqua calda sì però in questo caso vedete che la riduzione è del 6% dalle prove che abbiamo portato a casa l'aggiunta però dell'azotobacter i famosi 50 grammi permette di riequilibrare la situazione di portare la produzione a 100 non era così scontato ma capite la potenzialità di questo prodotto soprattutto se noi andiamo a paragonarlo con lo standard di mercato che attualmente come si può dire è abbastanza in auge vedete in questo caso c'è un gap del 3% e in questo caso se io faccio una comparazione anche qui per arrivare a un numero con 10 tonnellate di produzione di granella questo 3% identifica 0,3 tonnellate che al prezzo che vedete di riportato che sono circa 330 euro fa 100 euro per ettaro quindi il prodotto funziona da un punto di vista tecnico funziona da un punto di vista economico con tutti i vantaggi che abbiamo visto prima in termini di risparmio eccetera andando avanti nel capire soprattutto dove e quando utilizzare l'azotobacter vedete che sul mais di nuovo ancora una volta ve lo ripeto tante volte ma per far sì che vi rimanga in mente tra l'altro avete la brochure spero che l'abbiate presa all'inizio quando vi siete registrati però vi dicevo sul mais si usa in post emergenza quindi faccio il diservo di post emergenza aggiungo questa bustina di 50 grammi per avere questa compensazione di 50 60 unità di azoto visto che vi dicevo prima di cereale se ne è seminato anche in questa zona ho aggiunto anche la slide per quanto riguarda il posizionamento nel cereale che anche qui va in ottica di abbinare le operazioni a livello di azienda agricola quindi migliorare anche qua entro una volta e cerco di fare più operazioni possibili con il diservo del cereale anche qui utilizzo 50 grammi qui la riduzione di azoto è minore stiamo parlando di 30 35 unità ma comunque abbiamo una riduzione anche sul cereale ecco chiusa la prima parte per quanto riguarda l'azotobacter ci tenevo a condividere una slide estremamente veloce legata ai protocolli integrati i protocolli integrati servono essenzialmente per poter andare a mettere insieme gli agrofarmaci e i biostimolanti sapete che si ingenta acquisito valagro e in questo caso noi stiamo imparando soprattutto per quanto riguarda il mais siamo in una fase di non dico esplorazione ma stiamo mettendo a posto i puntini sulle i vi condivido questo sul cereale chiaramente siamo partiti prima però in questo caso l'utilizzo di biostimolanti applicati ad esempio insieme al diserbo piuttosto che ai fungicidi porta una produzione che va dal 2 all'8% anche qui non ho fatto una slide per farvi i conti ne avevate già di numeri da dover digerire oggi però questa variazione di produzione fa sì che il costo derivante all'utilizzo di questi prodotti sia estremamente vantaggioso quindi quello che vogliamo fare e spero che l'anno prossimo magari abbiamo la possibilità di condividerlo tutti insieme e farvi vedere questi dati anche sul mais e vedere dove andiamo a parare da un punto di vista di produzione in più utilizzando questi biostimolanti andando avanti nella presentazione siamo quasi alla fine quindi andiamo a concentrarci in questo caso sull'ultimo argomento di oggi cioè sul digital tutti parlano di digital nel caso di Singenta la nostra offerta è racchiusa sotto l'umbrella brand crop wise che vedete poi qui declinato in quattro varianti diversi abbiamo il selector in questo caso legato più alle sementi abbiamo poi il crop wise protector sustainability e imagery su quest'ultimo facciamo una veloce parentesi perché è uno strumento particolarmente interessante soprattutto perché l'utilizzo ormai delle immagini satellitari è uno strumento che le aziende agricole possono utilizzare in maniera come si vuole dire più che è facile e soprattutto permettono di poter andare a verificare in modo rapido quello che è lo status ad esempio della coltivazione dal punto di vista di salute se ci sono problematiche si vanno a identificare le aree di intervento sapete benissimo che colori diversi lo vedremo nella slide successiva identificano chiaramente eventuali problematiche faccio riferimento ai colori tendenzialmente rosso piuttosto che giallo un altro aspetto importante il monitoraggio da remoto dei campi nessuno di noi vuole sostituire l'agricoltore e l'agronomo lungi da noi però dobbiamo anche prendere in considerazione che la superficie medica delle aziende agricole italiane anno su anno aumenta ed è anche normale che il professionista barra in questo caso agricoltore possa valersi di questi strumenti poter migliorare il monitoraggio e andare a intervenire dove serve quando serve ultimo punto le immagini satellitari permettono di andare a creare delle mappe di prescrizione sulla semina e in questo caso è una pratica non così diffusa ma che comunque è già presente da qualche anno sul mercato lo step in avanti è quello che dicevamo all'inizio della giornata di oggi migliorare anche l'irrigazione quindi questo è un aspetto estremamente importante da portarci a casa detto tutto questo sul crop wise imagery io volevo condividere con voi la possibilità che da questa stagione abbiamo potenziato il servizio abbiamo un servizio diciamo premium in questo caso dove andiamo ad aumentare la risoluzione dei nostri satelliti quindi anziché una visione a 10 metri scendiamo a 3,5 metri con un altro grandissimo vantaggio che satellite passa sul campo identificato tutti i giorni quindi noi abbiamo una precisione molto migliorata dal punto di vista di evoluzione della cultura ma soprattutto risoluzione anche della di vedere com'è la vostra cultura guardate ad esempio queste immagini vedete che magari una zona che poteva essere giallina in questo caso diventa verde perché? perché la risoluzione migliora ma soprattutto il poter passare tutti i giorni ci permette di essere ancora più precisi per quanto riguarda lo stato delle culture quindi su questo stiamo lavorando in maniera importante e andiamo a lanciare anche su digital offerte sempre più consistenti per i mais e chiaramente anche per il cereale essenzialmente siamo arrivati alla fine della mia presentazione quindi quello che volevo condividere con voi è che la nostra offerta evolve sia su mais abbiamo visto che anche sul sul cereale perché dobbiamo rispondere alle richieste del mercato abbiamo sentito prima nella presentazione del professor Rineri che il mercato non lo governiamo noi ma noi siamo in grado di adattarci in maniera ottimale soprattutto e velocemente perché considerate che noi gli azotobacter ad esempio li abbiamo lanciati in un anno facendo uno sforzo da un punto di vista di R&D incredibile quindi ci tengo particolarmente a questo tipo di visibilità di darvi visibilità sul fatto che gli agrofarmaci rimangono e saranno comunque la pietra diciamo angolare su cui costruire la nostra offerta sul mais e sul cereale ma lanciamo nuovi prodotti abbiamo visto ad esempio il volume ma soprattutto tutti i nuovi biostimolanti in questo caso con l'azotobacter salinestris che va a migliorare abbiamo visto l'efficienza della consumazione azotata ma soprattutto vi permette di gestire i costi in questo momento estremamente importante per questa componente stiamo lavorando sui protocolli integrati oggi non abbiamo visto numeri ma l'anno prossimo se ripetiamo questo evento ci terrei particolarmente e se non sarà questo evento avrete sicuramente modo di poter vedere tutto il lavoro che stiamo facendo e i servizi digitali servono per poter aiutare le aziende agricole e gli agronomi a migliorare chiaramente il loro lavoro l'obiettivo è quello di rimanere all'azienda leader sul mais sul cereale e in questo momento noi stiamo cercando di evolvere soprattutto per rispondere alle richieste del mercato perché l'obiettivo ancora una volta e rimanere l'azienda leader anche su questa cultura detto questo io ho finito la mia presentazione chiaramente se ci sono domande sono a vostra disposizione grazie per l'attenzione grazie Dario beh allora direi che ci hai guidato lungo due punti importanti che sono in grande continuità con gli interventi precedenti abbiamo sentito parlare di innovazione in tecniche di agronomiche quindi dell'azotobacter salinestris e in tecnologie da utilizzare quelle digitali la piattaforma crop wise da questo punto di vista è una importantissima piattaforma che può aiutare nel supporto alle decisioni non parliamo di una piattaforma costosa come quelle di precision agriculture che ci ha tradotto tu a Medeo è una piattaforma assolutamente alla portata delle aziende medie italiane di questo ne abbiamo tenuto assolutamente considerazione io ringrazio tutti i relatori per le presentazioni direi di aprire l'ultima sessione di domande e risposte chi è in sala può tranquillamente richiedere il microfono abbiamo le nostre hostess che ci possono assistere in questo altrimenti chi è collegato da casa può tranquillamente scriverle in chat le leggeremo e risponderemo alla bisogna per cui l'esortazione è di non essere timidi e di chiedere approfondimenti nel momento in cui qualcosa non sia stato particolarmente chiaro buonasera buonasera il mio nome è Giorgio Treves e chiedo scusa se dico delle sciocchezze però un problema che mi angustia è che vorrei applicare in media coltivo un'azienda agricola di seminativi e quindi vorrei applicare l'ecoschema 4 già da quest'anno in modo da non perdere i 150 euro all'etero che toglie la PAC la domanda è la seguente nell'ecoschema 4 culture da rinnovo è scritto sono esclusivamente permessi i mezzi della difesa integrale allora la mia domanda è cosa si intende per difesa insetticidi fitofar oppure diserbanti questa è la domanda grazie grazie stiamo ponendo il quesito a livello ministeriale prima di tutto però vado per l'analogia cioè oggi è difesa intesa come ovviamente insetticidi ma anche come diserbo perché se io guardo e leggo l'ecoschema 4 dice diserbi chimici e prodotti fitosanitari che sono vietati sulla parte di diciamo cultura quindi per analogia mi aspetto che la stessa tipo di richiesta sia intesa per completo scusi sì cereali eccetera è una cosa per le culture da rinnovo il testo è differente esattamente tanto è vero che sì concludo cioè allora oggi però è unico cioè il corpo di definizione è lo stesso cioè dice per le culture leguminose e foraggere io devo andare a fare quella che ho il divieto di diserbo chimico e prodotti fitosanitari fermo mi fermo sul resto io posso fare la difesa integrata questo è il testo della PAC cioè la versione che ci è stata presentata il 2 di dicembre il decreto ministeriale fa un passaggio ulteriore dice la difesa integrata è difesa integrata volontaria e questo lo fa ancora il testo del 2 di dicembre dice chi fa la difesa integrata volontaria e la produzione biologica sulle culture da rinnovo può evitare di andare a intervenire quando si fa riferimento alla produzione biologica il decreto ministeriale che è quello del 21 di dicembre del 2022 cosa fa riferimento fa riferimento alla difesa dei fitosanitari quindi tutto completo sia la parte di diserbo sia la parte di diciamo difesa fitosanitaria quella che conosciamo contro gli insetti quindi quando io vado a prendere la quota parte di difesa integrata volontaria oggi se la leggo in senso stretto quindi se la leggo per analogia la devo leggere sia per la difesa integrata scusi sia per la difesa intesa come insetticida sia anche per il diserbo quindi devo andare a prendere che cosa il disciplinare che c'è a livello regionale quindi qui siamo in Lombardia quindi vado a prendere le due schede una di difesa e l'altra di diserbo che fanno riferimento alla cultura mais soia o alla cultura su cui voglio andare a fare la cultura da rinnovo su queste dovrò stare e seguire rigidamente quelli che sono le indicazioni regione per regione e nella fattispecie sul diserbo mi sento di dire non ci sono delle grosse ci siamo anche confrontati con le varie aziende produttrici non ci sono delle grosse impedimenti perché ci sono delle molecole che sono ampiamente contemplate all'interno dei disciplinari volontari io non voglio fare pubblicità però ad esempio il Lumestra che prima è stato citato rispetta pienamente questa senza limitazione invece la terbutilazina ha delle limitazioni anche all'interno del disciplinare volontario integrato volontario vedo un po' più difficile invece la quota parte della difesa integrata volontaria relativa agli insetticidi a partire da quella che è la geodisinfestazione quindi oggi che siamo tutti oramai probabilmente abbiamo già portato a casa dei vari stoccatori di chi commercializza il prodotto il bancale di semente stiamo attenti perché qui soprattutto in Lombardia c'è una forte limitazione perché viene richiesta il fatto che si possa conciare o geodisinfestare poi dice il test lo conosco a memoria perché stiamo cercando di capire come come intervenire come utilizzarlo tranne nel caso in cui il mais segue se stesso segue l'erba medica o segue le patate tranne in questo caso io devo fare il 30% di mais di tutta la mia superficie che è geodisinfestato questo 30% può diventare il 50% nel caso in cui io vado a fare un campionamento opportuno un campionamento che deve essere indicato da dei diciamo dei da dei professionisti che sono abilitati per poterlo fare quindi questa diciamo oggi è la condizione la condizione più vincolante ci sono poi delle condizioni vincolanti anche sul trattamento della pirale però seguono un po' già di più quello che di solito facciamo quindi bisogna fare dei monitoraggi sulla seconda e sulla terza generazione e soprattutto ovviamente farlo prima della fioritura quindi che di solito sono anche le indicazioni di etichetta però io credo che dovremmo valutare ognuno molto bene quali che sono le condizioni oggi c'è una possibilità perché se io vado a leggere la deroga è vero che io sulla rotazione posso sostanzialmente derogarla per il 2024 cioè io se non faccio l'ecoschema 4 ma se faccio l'ecoschema 4 io devo rispettarla però se leggo i testi e le interpretazioni dei testi tutto dipende da quando io vado a prendere in considerazione l'anno zero della rotazione che teoricamente dovrebbe essere il 2023 l'anno zero se io faccio la rotazione quindi mi verrà controllato il 2024 su 2023 così come nel caso della deroga verrà aver controllato il 2025 sul 2024 così stante se io vado a prendere in considerazione disciplinare integrato volontario se io quest'anno faccio il MAIS che è l'anno zero e lo vado a confrontare lo faccio su un campo dove l'anno scorso ho fatto MAIS secondo disciplinare integrato volontario io vado a fare MAIS su MAIS e quindi in quel caso lì non ho quel vincolo di giro di investazione che invece ce l'ho nel caso in cui il MAIS non sussegue a se stesso poi ne possiamo parlare poi separatamente è una cosa molto molto tecnica bisogna stare molto attenti soprattutto bisogna stare molto attenti ai quaderni di campagna per cui nella compilazione e nelle acquisti ovviamente delle fatture che andano a testimoniare quello che è il rispetto del disciplinare integrato volontario grazie grazie Cesare vedrei che risposta più che saustiva in attesa che magari qualcun altro dalla platea ci porga delle domande vi leggo la domanda di Marco dal remoto che ci dice ammesso e non concesso che venga dato il via libero via libera alle piante ottenute con le NGT che applicazioni possiamo aspettarci per la maescoltura nei prossimi dieci anni qua a meglio credo che sia campo tuo dunque NGT NBT TEA prima cosa facciamo una distinzione NBT vuol dire New Breeding Techniques nuove tecniche di incrocio NGT invece è il termine usato nell'ultima espressione della comunità europea che vuol dire New Genomic Techniques quindi nuove tecniche di genomica quindi di lavoro o di applicazione a livello dei geni proprio TEA vuol dire tecniche di evoluzione assistita sono tutte sinonimi al nostro al nostro vedere quindi l'impiego di NGT sembra essere il termine internazionale attualmente da utilizzare cosa c'è da aspettarsi nei prossimi anni allora essenzialmente qualora fosse poi naturalmente consentita l'applicazione a livello operativo di campagna significa essenzialmente che il miglioramento genetico potrebbe essere molto più veloce in questo momento considerando anche la doppia produzione in controstagione effettuata in Sud America prevalentemente per le società e per il materiale per l'Europa e che in 8-10 anni talvolta anche 12 otteniamo una nuova varietà o meglio una nuova generazione nel nostro caso di ibridi mentre con queste tecniche in cui noi prendiamo un ibrido individuiamo un gene prendiamo da un altro ibrido o un'altra linea parentale in questo caso è più logico una linea parentale e andiamo a prendere il gene della linea parentale che porta quella caratteristica positiva e lo inseriamo nella linea parentale che noi vogliamo utilizzare quindi trasferiamo proprio quel carattere con precisione all'interno questo significa rendere molto più rapida la selezione genetica e diciamo anche tranquillamente molto meno costosa perché non si tratta di tornare indietro dopo un incrocio per togliere i caratteri non voluti che al 50% sarebbero scambiati con un'impollinazione naturale questo è importante quindi per noi agricoltori operatori vuol dire una evoluzione più rapida cosa vuol dire tutto questo allora non sono OGM quindi non abbiamo caratteri che modificano l'espressione produttiva della cultura in modo radicale pensiamo al carattere che controlla la piralide no? Bacillus thuringiensis carattere BT questo è impensabile che sia presente nel genoma del mais quello è inserito completamente da fuori quello è un OGM transgene quindi un gene che arriva da che cosa da un bacillus quindi da un batterio non sarà questo allora se è vero che in questi ultimi vent'anni in Italia ogni anno il materiale genetico presentato per il mais incrementa la produzione attesa potenziale in una variante che va da 0,8 a 1,2 quintali ettaro quindi ogni anno ci aspettiamo una crescita potenziale di quest'ordine riducendo della metà i tempi possiamo immaginare che andiamo verso i due quintali ettaro di miglioramento produttivo ogni anno ecco questo è il dato sintetico che vi posso esprimere poi quali caratteri quali funzioni possono essere migliorate beh chiaramente qui lasciamo poi anche al segreto delle varie miglioratori genetici individuare i punti però per noi significa incrementare la produzione a un tasso maggiore rispetto a quale grazie grazie mille ci sono domande dalla platea mamma mia o i relatori sono stati iper ecco ecco qua il signore che si è deve maturare o bastano tre mesi in campo chi risponde qui poi dopo seguire anche verifica comunque bastano tre mesi in campo c'è la seconda cultura se tu stai facendo riferimento a quella nella revisione che è stata fatta il 2 di dicembre dalla possibilità di avere i 90 giorni quindi i tre mesi grazie Cesare allora però verifica anche con Renzo ok leggo un'altra delle domande che è arrivata da remoto sostituire chilogrammi di urea con grammi di un azoto fissatore siete sicuri che la resa non ne risenta e dietro questa domanda leggo un po' come dire la difficoltà del cambiare i comportamenti no Dario sì effettivamente passare da un quintale un quintale a tre visto che parlavamo di mais quindi sono 60 unità rispetto a 50 grammi il salto è importante però quello che mi sento di dire a questo spettatore anonimo è che comunque la singenta da un punto di vista tecnico ha sempre approcciato qualsiasi prodotto in maniera puntuale precisa avvalendosi di un tot di dati che derivano dalla nostra ricerca dall'R&D e tutto quello che viene fatto poi a livello locale quindi anche su questa tipologia di prodotti come vi dicevo noi abbiamo corso tantissimo ma al correre è stato anticipare il lancio di questi prodotti facendo esattamente quello che facciamo per tutti gli altri prodotti prove tante prove ed essere sicuri quando lanciamo un prodotto siamo sicuri di quello che andiamo a dire quindi il posizionamento tecnico che abbiamo visto prima sul cereale e sul mais è quello che trovate nelle brochure e non cambia da zona a zona questo è quello che facciamo quindi un dato certo univoco quindi la risposta è sì i grammi in questo caso i 50 grammi identificano la riduzione che abbiamo visto prima quindi siamo certi di questo c'è anche un'altra domanda posso rispondere direttamente Francesco alla seconda visto che è abbinata tranquilla tranquilla dove si possono trovare fondamentalmente avete 5 marchi diversi quindi credo che chiunque di voi vada dal vostro rivenditore di fiducia vi può dare chiaramente l'azotobacter da poter utilizzare sul cereale e sul mais caso mai non ci fosse c'è sempre il sito internet c'è sempre l'app da scaricare Francesco faccio anche questa parentesi perché trovate tutte le informazioni qui sul sito trovate tutte le informazioni legate al prodotto e di conseguenza vi togliete tutti i dubbi del caso sì la domanda era i vostri azotofissatori sono già disponibili dove posso trovarli era questa la domanda di un utente in remoto ci sono altre domande dalla Pratea direi di no allora a questo punto possiamo avviarci verso la conclusione intanto grazie per l'attenzione e per la partecipazione anche da remoto abbiamo avuto una presenza costante abbiamo ancora circa 50 persone che sono collegate quindi è veramente importante aver avuto questo tipo di solito di attenzione prima di congedarci vorrei fare per un secondo sondaggio per comprendere cosa vi è stato particolarmente utile in preparazione di questa campagna mainicola la domanda è questa quale argomento vi è stato più utile per la preparazione della prossima campagna collegatevi al sito www.menti.com quello a cui vi siete collegati prima ed inserite il codice 2715578 ripeto www.menti.com codice 2715578 e scegliete una opzione fra le tre che vi vengono proposte e sarà utile capire che cosa vi è stato particolarmente utile perché in questo modo potremo focalizzare le prossime comunicazioni e poi aspettiamo che si componga che si compongano gli istogrammi eccoci qua gli istogrammi si compongono c'è un bel testa a testa fra le strategie agronomiche e l'azotobacter ah però vedi che avevo ragione quando dico che le presentazioni del professor Reneri sono sempre sono sempre terribilmente efficaci eh c'è niente da fare non ce la facciamo a batterla non ce la facciamo ha votato due volte io l'ho visto no bene bene siamo a 30 contributi aspettiamo ancora un attimo e ma è utilissimo avere questo tipo di indicazione bene direi che il risponso è chiaro eh abbiamo bene allora è importante che ci sia questo tipo di eh apprezzamento delle strategie agronomiche eh questo ci fa ben sperare perché ci siamo già detti che occorre cambiare dei comportamenti utilizzando tecniche e tecnologie che ci vengono messe a disposizione per superare i rischi ma raccogliere le opportunità che questi nuovi scenari così complessi ci pongono eh bene anche che sia stato utile eh l'argomento dell'azotobacter Salinestris perché effettivamente è un tipo di innovazione che comporta una fiducia e un cambio di comportamento abbastanza abbastanza radicale ancora un ringraziamento da parte mia dei relatori che ringrazio veramente per i loro interventi per la preparazione eh da parte un ringraziamento anche a tutti quanti voi che siete stati in sala e che siete in remoto vi diamo un appuntamento per un aperitivo dove potremo ancora scambiarci dei saluti e delle impressioni mi dispiace che chi è in remoto per chi è in remoto l'aperitivo potrà essere virtuale eh vi aspettiamo nella caffetteria che c'è uscendo a destra in cui è ancora a destra eh diciamo all'esterno per poter eventualmente ancora fare due chiacchiere in merito ancora grazie e buona campagna a tutti